Alan Ferrari, parlamentare del Partito Democratico, con il primo via libera della Camera alla riforma della pubblica amministrazione, sta di fatto arrivando una rivoluzione come l'ha definita il Ministro Madia, ma cosa cambierà nel rapporto con i cittadini e soprattutto in che modo questa riforma può contribuire alla crescita del Paese? Innanzitutto esprimiamo una grande soddisfazione oggi, questo è il primo sentimento, perché con questo provvedimento che si chiude in aula facciamo davvero uno di quei passi che i cittadini ci aspettano, che è fare in modo che l'amministrazione pubblica a tutti i livelli sia più vicina a loro, quindi metta al centro il cittadino e ci riusciamo con queste misure urgenti, che sono le prime, poi arriveranno quelle contenute nella legge delega, che sono misure che consentono a mio avviso di far sì che i dipendenti pubblici siano più orientati ad ottenere dei risultati, a farli ottenere nel complesso dell'amministrazione. C'è questo tema del ricambio generazionale che è un tema molto sentito in questo provvedimento, come si è già detto in più di un'occasione, non è un motivo di penalizzazione a chi è vicino all'età pensionabile o chi sta dando ancora tanto, ma è un tentativo di rimettere in gioco un sistema che ha bisogno anche di forze fresche e noi siamo convinti che ci siano migliaia, anzi centinaia di migliaia di ragazzi con lauree di diverso tipo che abbiano una gran voglia di entrare nel sistema pubblico e fare il meglio che possono per i cittadini di questo paese e questo è già un grande motivo di orgoglio per noi, riuscire a innescare questo processo.